Una delle giornate più calde dell'anno qui da me, infatti ho dovuto aspettare il favore delle tenebre per poter sopportare una maglietta addosso per dire due parole sul Tour de France, sulla tredicesima tappa della Grand Boucle, l'atteso arrivo in salita al Grand Colombier, in realtà come tutte le tappe Unipuerto e quella di oggi praticamente lo era, e lo spettacolo è piuttosto ridotto, si concentra nel finale e al di là dello spettacolo della fuga e della bellissima impresa di Miho Kwiatkowski, oggi mi sovviene che, apro e chiudo parentesi, mi soviene una volta scrissi sul forum di Ciclo Web un thread, una discussione dedicata a Kwiatkowski, intitolandola Kwiatkowski, cognome difficile che tutti hanno già imparato a pronunciare, mai errore fu più grosso perché in realtà lo sento ancora chiamare sempre Kwiatkowski, allora, non da tutti per fortuna, allora, dicevo, grande impresa quella del polacco che è riuscito a conquistare la tappa esibendo una tenuta straordinaria nel finale sulla salita sulle rampe del Grand Colombier dopo aver staccato i suoi compagni di fuga, tra cui Maxime Van Gils che è stato l'altro a riuscire a precedere, seppur di pochissimo, gli uomini di classifica. Allora, le domande che mi porto dietro da questa giornata sono sostanzialmente due, nell'ambito di un tour in cui non ci sto capendo nulla, ma lo dico proprio candidamente, perché Tadej Pogacar ha fatto tirare tutto il giorno la sua squadra, la UA Emirates, se poi non è riuscito a trovare il colpo risolutore nel finale, il colpo che gli permettesse, quantomeno a lui, di arrivare, di raggiungere i fuggitivi. Perché ha attaccato solo a 450 metri dall'arrivo? Abbiamo visto che, forse, dato che Vingegord ha un po' ceduto, dopo lo scatto di Tadej, abbiamo visto che forse se avesse attaccato un po' prima avrebbe potuto fare maggiore differenza. Insomma, è una giornata che mi lascia molto perplesso da parte dello Sloveno, che pure comunque ha riguadagnato ulteriormente 4 secondi su Vingegord, più 4 di a buono, dato che è arrivato terzo, fanno 8, e la distanza in classifica tra le due si riduce a 9 secondi in favore del danese. Domani e dopodomani altre due super tappe, vabbè, queste sì, quella di oggi non era una super tappa, era un'importante tappa di montagna. Le prossime due sono due super tappe, lì vedremo probabilmente una battaglia, spandersi su uno spazio, su un perimetro molto più ampio. La classifica è tutta lì, è nei 30 secondi che da Pogaciar, che oggi è arrivato terzo a 50 secondi da Kwiatkowski, che da Pogaciar vanno a Carlos Rodriguez, che è arrivato undicesimo, insieme a Sepkus, dodicesimo, a 1,20. Quindi 30 secondi in cui i migliori sono sgranati sull'attacco di Tatei nel finale, Vingegard, come detto, ha pagato 4 secondi, Pitcock 13, Jay Hindley 15, e così via gli altri due fratelli Yates. Diciamo che in queste tappe i fughisti, quelli che si trovano in classifica per via delle fughe, per esempio mi riferisco a Peio Bilbao e a Thibaut Pinot, perdono un po' di terreno, Bilbao ha perso due posizioni in classifica, ora è settimo, Pinot è uscito dalla top 10 ed è undicesimo, ci è rientrato invece Sepkus, decimo, i due fratelli, i gemelli Yates hanno guadagnato entrambi una posizione a spese di Bilbao. Quindi sono piccoli assestamenti nell'ambito di una classifica che continua a parlare chiaramente con le due voci, di Vingegard e Pogaccia, anche se Hindley a meno di tre minuti di ritardo non è che sia proprio lontano un'era geologica, però insomma abbiamo visto che l'australiano è sempre sulla difensiva. Va bene, mi aspetto che domani ci si possa chiarire maggiormente le idee sulle intenzioni dell'uno e dell'altro, la mia impressione è che si rispettino così tanto Yonas e Tadei da risultare un po' rattrappiti nelle loro azioni e quindi non vorrei che anche domani prevalesse un certo eccesso di cautela, speriamo di no.